Eccoci qua con l'allenatore del Poggi Bonzi, Stefano Calderini, mister. Abbiamo visto una partita nel primo tempo equilibrata, nel secondo tempo invece è venuto fuori Foloni Cagavorano che ha trovato il gol del 2-1. Finale emozionante con tante occasioni da una parte e dall'altra e abbiamo visto sia l'anno scorso che quest'anno bellissime partite fra le due squadre. Sì, sicuramente è stata una partita di buon livello, giocato anche se c'era molto caldo a dei buonissimi ritmi. E' un peccato perché bene o male abbiamo subito un gol evitabilissimo, è stata una distrazione e poi la Russia ha fatto questo gol. Però ripeto un'altra volta, io sono contento perché comunque la prestazione c'è stata alla squadra, abbiamo reagito al 2-1 creando diverse occasioni. Direi che è stato molto bravo anche Ombra sul finale che ha fatto una grandissima parata ma anche sull'uscita su moto. Insomma, direi che è stato un peccato perché con un po' più di precisione potevamo anche pareggiarla che forse nel contesto della partita era il risultato più giusto. Lo scorso anno abbiamo visto una bellissima finale play-off, quindi seconda posizione da parte del Poggi Bonzi. Quest'anno qualche punticino in meno all'inizio, 5 partite, 4 punti realizzati. Quali sono gli obiettivi della società quest'anno? Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, è ovvio che è difficile ripetersi e questo lo sapevamo benissimo. Abbiamo avuto un inizio non brillante, oggi devo dire che però credo sia stata la migliore prestazione fatta dalla squadra e quindi se siamo in grado di ripetere questi tipi di prestazioni penso che presto usciremo fuori da una situazione di classifica un po' particolare e ci rimetteremo in una classifica che è più consona al valore della squadra. Perfetto, ringraziamo l'allenatore del Poggi Bonzi Stefano Calderini. Arrivederci, grazie a voi.